ben ritrovati questa volta giuro non la farò lunga con questo video perché ci saranno altri video in cui la farò terribilmente lunga e andremo a fare le pulci su tutto però quello che vorrei fare al volo con questa bellissima piccola valvola in mano è presentarvi brevemente quello che al momento è ancora il prototipo del futuro cantico single ended 845 da quando sono arrivate le signore elrog la fregola è stata tanta a parte il fatto che mi avete chiesto in diversi ma con cosa le ascolti con cosa le fai andare ma le posso mettere su questo quell'altro amplificatore e lo sapete io di solito tendo a essere piuttosto critico con le applicazioni commerciali dell'845 perché in generale presentano una serie di limiti e di problemi che costringono ampiamente quelle che sono le possibilità di questa bella valvolotta valvolotta che lo sappiamo ha tutta una serie di idiosincrasie ve l'ho già ripetuto molte volte suona bene potenzialmente benissimo ma per farla andare bisogna prendersi un monte di grane perché è perché l'alimentazione dei filamenti è un problema perché l'alimentazione dell'alta tensione è un problema perché lo stadio di pilotaggio è un problema risultato amplificatori grossi costosi e decisamente poco pratici da trattare quello che ho voluto fare con questo progetto è stato di pensare o almeno provare a pensare un modo per rendere questa valvola ben suonante e maneggevole relativamente naturalmente mini amplificatori con l'845 non si possono fare sono comunque macchine che verranno piuttosto grandicelle piuttosto pesanti piuttosto ingombranti ma se non altro rispetto al metro cubo di amplificatore che si prospettava per usare un 845 come si deve direi che in questo caso siamo riusciti a ridurre abbondantemente l'impronta vi dicevo quello che vedete qui è ancora il prototipo dal punto di vista meccanico cioè dal punto di vista del layout dal punto di vista della costruzione ma circuitalmente rispecchia già quello che sarà il definitivo ve lo introduco dal punto di vista tecnico in maniera molto breve quello che vedete qua sopra è la parte strettamente di amplificazione quello che si intravede nel ripiano di sotto per adesso ancora accablato in aria è l'alimentazione dell'alta tensione e là per terra c'è lo scatolotto che fa le veci dell'alimentatore dei filamenti in questo momento è semplicemente uno dei miei alimentatori da laboratorio uno dei miei alimentatori da banco che sta lì e semplicemente fa accendere i filamenti ecco giusto per farvi capire quando dico che ci vuole una certa cura nel far accendere queste valvole quello è il risultato vi dicevo la parte superiori è il circuito di amplificazione come vedete è piuttosto piccolo è piuttosto compatto e sulla carta non dovrebbe funzionare perché questa piccola valvola che è una 6 sn7 tanto per capirci è la stessa valvola che è installata sui 300b di FETS audio sui miraceti ecco questa valvola in condizioni normali non riuscirebbe a pilotare un 845 l'ho già detto tante volte ci vogliono valvole di potenza elevata ma il bello viene adesso se io l'845 come vi ho già ripetuto molte volte la faccio funzionare in un punto di lavoro un pochino più rilassato rispetto ai limiti nominali quindi ai mille volt 100mA posso anche riuscire con un piccolo, chiamalo piccolo, trucchetto a farla pilotare da una valvolina come questa e farla pilotare su serio questo poi lo vedremo nei video tecnici il trucchetto qual è? beh innanzitutto la valvola driver è accoppiata alla finale con un trasformatore con il circuito che è stato sviluppato per il vecchio prototipo del 45 ve lo ricordate ci sono tre video a riguardo potete andarvelo a rivedere ci sono tutte delle bellissime spiegazioni tecniche il secondo trucchetto che è stato adottato è stato quello di trovare un punto di lavoro ottimale per la finale per riuscire ad avere ovviamente alta linearità, buon pilotaggio del carico, buona potenza e facilità di pilotaggio quindi le nostre 845 non sono tirate per il collo a mille volt ma funzionano a 700 volt e questo ci permette di farle lavorare fino a una potenza di 10 watt in modo da essere facilmente pilotabili dal nostro driver a trasformatore che se non fosse a trasformatore come vi ho detto non piloterebbe comunque nulla però con l'accoppiamento trasformatore io riesco comunque a pilotare l'845 fino a 10 watt in classe A1 torneremo sulla classe A1 e sulla classe A2 in un video adeguato con gli strumenti vedremo come funziona e vedremo di capire qual è la differenza e quali sono i vantaggi e i tanti svantaggi comunque sappiate per il momento che la classe A nel nostro caso si divide in classe A1 e in classe A2 e questo è quanto insomma la versione definitiva di questo amplificatore con ogni probabilità verrà proposta in almeno un paio di allestimenti uno più accessibile con trasformatori toroidi quindi Fez Audio fatti custom fatti su misura per il nostro progetto e un'altra versione con trasformatori di classe decisamente più elevata in modo da poter sfruttare fino in fondo tutte le bellezze di questo 845 Elrog quella che ho in mano è una gloriosa 845 cinese che vi metto accanto giusto per farvi vedere la differenza ed è quella che ho usato per sviluppare il progetto quella che avete visto nelle foto dei giorni scorsi che ogni tanto sono balenate sui social giusto per farvi capire che anche se ero un po' impegnato insomma stavo facendo qualcosa ero tappato in laboratorio in compagnia dei miei topolini a mettere insieme a imbastire questa cosa questa configurazione non è nata dal niente ci sono state tre o quattro iterazioni nelle ultime due settimane tre settimane in diverse configurazioni per riuscire a trovare il punto di lavoro ottimale e soprattutto questo risultato è frutto di un lavoro che è durato tanti anni in passato per cui apparecchi del genere in realtà io ne avevo già costruiti ma erano tutti apparecchi custom a loro differenza questo oggetto verrà ingegnerizzato per poter essere prodotto in piccola serie vedremo in base all'interesse in base a quello che verrà fuori come sviluppare la cosa e come portarla avanti ma sicuramente qualcosa salterà fuori come al solito io non sto a raccontarvi come suona un oggetto del genere qualcuno è già passato dalla saletta a sentirlo quindi ho già dei riscontri di terzi che mi hanno fatto quantomeno ben sperare al di là dei miei poveri ascolti che posso aver fatto a questo punto io vorrei farvi un invito ufficiale siccome questo fine settimana a Milano ci sarà la solita mostra del buon Zaini che io vi invito ad andare a visitare perché insomma già abbiamo pochi eventi in giro per l'Italia questo è sicuramente se non il più importante uno dei più importanti e quindi vale la pena di andarci ma se vi avanza una mezz'oretta sappiate che a 10 minuti dal Hotel Melià c'è la mia sede di Milano in via Vannucci 20 e sabato 12 io sarò a disposizione dalla mattina magari non proprio prestissimo fino a sera quando ci stuferemo proprio per farvi ascoltare questo signore mi porterò dietro un impianto piuttosto carino che sarà grosso modo quello che vedete qui quindi con il DAC1 di Cantico sempre nella versione prototipo per non smentirci perché insomma i muletti servono a questo l'alimentatore del sistema sarà il PC4 di giga i cavati cavi saranno HMS i diffusori saranno Cantico su questi devo dirvi non ho ancora deciso definitivamente ma sicuramente ci saranno le CX-8 da pavimento se vi va di ascoltare qualcosa in particolare fatemelo sapere entro i limiti del possibile vedrò di portarmi dietro no queste non le porto perché sono troppo scomode però se è roba relativamente più piccola che mi sta sul furgone me le posso portare e allestirvi l'impianto che vi piacerebbe ascoltare in modo da farvi un'idea e poi insomma ci sarà tempo di fare due parole di chiacchierare amabilmente di schiarirci la gola magari con un fondo di bicchiere di prosecco non trovo perché poi se dovete guidare per andare a casa guai non voglio essere io il responsabile del sequestro di patenti insomma sarà una giornata assolutamente conviviale dove potremo parlare liberamente tranquillamente delle nostre cose dicendocele in faccia quindi senza il filtro senza come dire i limiti di attenzioni che bisogna fare sui social quindi se volete chiedermi che cosa ne penso di qualcosa a questo punto lo potrete fare io vi potrò rispondere perché in camera caritatis posso dire qualsiasi cosa insomma sarà una specie di live che dura una giornata in cui possiamo dire e fare tutto quello che vogliamo nei limiti della buona educazione ecco insomma e con questo concludo spero di avervi messo un po' di curiosità riguardo questo amplificatore ripeto ci saranno altri video in cui entrerò più nel dettaglio delle soluzioni tecniche in cui chiacchiereremo di varie cose un po' più dettagliate però a me per il momento interessa farvi venire solamente un pochino di curiosità a riguardo spero di vedervi diversi sabato in giornata e ci vediamo al prossimo video